bella amici e amiche abbiamo preso la roba e l'abbiamo portata qua e adesso lo andiamo a tirare su infatti vedete il camion parcheggiato qui però bisogna rimuovere diamo un attimo cosa succede ai 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 tiriamo via il camion un attimo Grazie. Siamo quasi al limite della gru, è incredibile. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.